La attesa che stiamo facendo con questo sole che adesso forse disturba qualcuno ma consideriamolo anche questo un dono nella giornata più lunga che ci attende è un'occasione davvero unica. Noi siamo qui, guardate un po' alle spalle se riuscite a vedere la folla che... Dio di Dio per noi crocifisso Grazie